Oggi proverò a battere tutti i world record di Fortnite e questa è la sniperata più lunga del gioco Come vedete, conti in sé lì, 3, 2, 1 Let's go! 14.815 metri, signori, primo world record andato Signori, in questo momento è il momento di secondo record, ovvero il cerchio perfetto fatto in minor tempo 3, 2, 1 Dai, ma questo è super facile! Ma che cazzo non l'hai fatto? Ho sbagliato tutto e mi sa che qua sbagliate tutto pure voi No, ragazzi, guarda qua, così Io l'ho fatto perfetto, io l'ho fatto perfetto, sono troppo forte a fare i cerchi Eeeh, no, direi, direi proprio di no Ti faccio vedere io come si fa, fermo Arco 2, che schia... Ma mentre Lollo proverà a fare il suo cerchio perfetto Io e Conti dovremo completare totalmente il salto più lungo di Fortnite con il kart Dai, bro, hai chiamato la persona giusta, andiamo, bro, andiamo Aspetta, no, no, spingi, spingi Spingi, spingi Vola, uomo! Non ho neanche mirato il col... Aspetta, sto saltando un botto, sto saltando un botto Completamente impossibile, devo saltare e fare un... Oh mio Dio, oh mio Dio, è difficilissima questa roba, ragazzi, io odio Oh, l'ho fatto, dai! Questo era un cerchio, non era forse perfetto, ma era un cerchio Mi sa che ti ho battuto e il record è completato E signori, il prossimo record è il lancio più lungo della palla da rugby 3, 2, 1, olè, lancio Ma io c'ho quella da calcio, non so se funziona La mia è arrivata qua, Conti, adesso ti vado a vedere, vediamo un po' se tu riesci a superarmi Ma perché la mia torna indietro? Non capisco Eccolo, eccola! Ok? È scesa comunque... Allora, brother, il problema è che nessuno di noi è riuscito a batterlo Perché il record, ragazzi, è superare questa bottiglia qua Quindi bisogna superare la bottiglia rossa, Conti Allora, mi serve uno spazio piccolino e fare un cerchio perfetto così Non è perfetto questo Non era un cerchio perfetto, ve lo posso garantire Sono... sono stupido E signori, visto che è la palla da rugby, mi sa che non è la palla adatta È il momento del pallone da spiaggia Ti dico, Refe, no, non fa niente... Oddio! Aspetta, aspetta, aspetta! No, 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 aspetta Ok, questa è giusta, questa è giusta, brother! Uno dei peggiori lanci della mia carriera Sì, infatti, non so come hai fatto, ti dovrebbero dare un premio per la schifezza che hai fatto Signori, la vedo molto difficile a superare Forse, forse, però la pallina da golf ce la fa, raga, attenzione È l'ultimo tentativo che ho a disposizione di io, se no, avremo fallito il record Oh! Ce l'hai fatta, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta sicuro Sì, 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 la vedo, la vedo che cade, la vedo che cade L'ho superato! Signori, world record! Ma ora andiamo a riprendere Lollo Mamma mia, perfetto questo Lollo, io spero che tu abbia completato il cerchio perfetto, onestamente Io intanto... Non hai capito, ho fatto il record di cerchi perfetto in un minuto Ne ho fatti 14 Io e Conte abbiamo fatto altri due record, lo torna qua che è il momento del prossimo record Una leggenda narra che nessuno è mai riuscito a completare questo dropper in un solo salto Oh, Yolo! 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 Oh! Aspetta! No! Non ci credo, non ci credo ce l'ho fatta, non ci posso credere Ragazzi, ce l'ha fatta Conti Raga, world record per Conti allora Io ancora non sono partito perché ho paura Oddio! No! Vado anch'io! No, il limone! No! L'uva! Oddio, ce l'ho fatta! Al primo tentativo! Sì, baby! Let's go! Ragazzi, in questo momento invece dobbiamo creare in due minuti la casa di Lego migliore del mondo Vai! Io parlo, signori! Ok, ho messo giù il Lego Ma non capisco Levatevi! Andate nei vostri Lego, non nei miei Idioti! Ah! Idioti! Andate nei vostri di Lego, non nei miei Allora, ragazzi, potrebbe essere la cosa più cupida Dai, Conti Ho ucciso Lollo con un Lego Conti, sei proprio la persona più inutile che può fare i Lego Ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea, Lollo Sabotiamolo Togliamo gli cupetti al ref No, ma testa di cazzo! Ragazzi! Togliamogli lì Occhio, sei diventato una palla Bene, fate esplodere tutti i vostri cubi Voi mette uno solo e adesso io c'ho tutti quanti Idioti Ma ragazzi, ma vaffan... Regà, record perso È impossibile fare sta cazzo di costruzione Impossibile proprio Signori, prossimo record Il record per i polli uccisi su Fortnite È circa 20 polli insieme Noi oggi lo faremo con 100 polli, signori Quindi, signori Una volta spaventati tutti i polli In 3, 2, 1 Spai! Mori! Guardiamo lì Oddio, sono morti tutti La strage di polli Io direi che il record è completato Possiamo passare al prossimo Signori, questa è una delle death run più difficili di Fortnite E il record è completarla in 5 minuti Buona fortuna, miei prodi Allora, refe, te lo dico Te lo dico, sono già morto Sono già morto Sì, uguale, uguale Fra, non ti preoccupare che non cambierà il fatto che siamo morti Ma ricordati che chi va piano va stanno e va lontano Quindi dobbiamo fare le cose con calma Senza... Ecco Cioè, è la cosa più difficile che ho mai provato su Fortnite Chill bro, chill bro, chill out bro, chill out bro C'è un leap più facile in confronto Io ho detto tutto Eh, hai ragione Sto saltando su dei mirtilli, ragazzi Comunque vorrei sottolineare questa piccola cosa Signori Primo checkpoint preso Let's go Oh mio Dio, regà No, voi non avete capito il prossimo livello Il prossimo livello, regà È impossibile mai intanto, regà Mi raccomando, vi ricordatevi sempre Codice RF nello shop Per supportarli al massimo Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Arriviamo a 2000 like per questo video, signori Ma soprattutto Seguitemi anche su Instagram Dopo aver messo il codice RF Detto questo, signori No, refe, questo qua Cioè, qua si muovono pure le cose Cioè, era difficile da fermo Se si muovono pure è un casino No, porco, due Cabbo, sono un cretino, raga Ho risaltato Avevo fatto Ero arrivato già al quarto Ero arrivato al quarto Conti Sta facendo il livello Eh, regà Perché mi sono allenato stanotte Perché qua Quella cazzo di bocca No way No way Ma è impossibile Stedetran Vecchio Devi sta zitto Perché era tutto concentrato Non vale Lollo Non vale Non si bara Stedetran Se nessuno vede niente Togli tutto Io comunque Non vorrei dire Lollo Ma tu devi barare Invece qua Chiuso il codice RF Ce la fa Senza Barare senza far nulla ragazzi Si corre attraverso i limoni Signori il livello più facile del pianeta Attenzione Ma dove state voi? Io sto con i capelli Porca troppo E let's go baby baby Ci abbiamo fatto Ora si salda sopra l'arancia Non è un'arancia Sì è un'anguria Vabbè easy Sono già i limoni signori Signora i limoni Corrego di nuovo sono degli arance Comunque io e la frutta non saremo mica migliori amici Però ragazzi devo superare questi gelati Suppongo siano gelati va bene E siamo arrivati all'ultimo livello Il livello che comprende tutti i livelli raga Cioè divi che questo è difficile a dire poco ovviamente Devo fare un altro saltino qua No non è possibile Non è possibile Non è possibile Ti prego ti prego arancia 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 Lollo questo è impossibile Questo è veramente impossibile Il record qua è completarla a sto punto Cioè il record è veramente completarla ragazzi No way bro Ok Ora è proprio impossibile sbagliare per me Lollo Oddio Oddio Lo dicevano tutti così Poi uno sbagli sempre No 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 Vaffanculo Oddio È passato al lato oscuro ragazzi L'ho visto Challenge completata Andiamo a fare il prossimo record Signori prossimo record Il salto più lungo di Fortnite Vado 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 Accelerato Vola uomo Oh mio Dio C'ero quasi Posso dire che l'abbiamo quasi completata ragazzi Dovremmo fare un altro tentativo perché bisogna superare tutte le bottiglie ragazzi Per fare il salto con la macchina più lungo di Fortnite Signori è il momento di brillare secondo salto più lungo di Fortnite Dove cazzo va? Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta No Rega io direi che però secondo me quello lì è il massimo salto Quindi io direi ovviamente record completato Signori prossimo record conti sarà il nostro giudice Quindi conti vai da davanti per favore Allora vado davanti vedo quale palla mi arriva in faccia Ragazzi dobbiamo lanciare la palla più lontana possibile Lollo 3 2 1 Vai Vola uomo Ok Oh attenzione 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 Eh no mi sa che il signorefe ha vinto Eh sì Eh Lollo Pollo Signori record vinto da me e torniamo a farne un altro Signori prossimo record è la bottle flip più lunga di sempre Attenzione dov'è dov'è non la vedo non la vedo non la vedo Aspetta che sta rimbalzando Attenzione dritta No No Lollo è prossimo tiro Devo rifarlo? Devi rifarlo assolutamente è andata veramente male 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 Ne lancio di più ne lancio tante Vai ragazzi stanno per arrivare Stanno assolutamente per arrivare Eccolo da molto male Non la vedo eh raga non la vedo Sta arrivando è perfetta questa Ok eccola è rimbalzata male è rimbalzata male No niente No niente niente prossima prossima Oddio Oh questa questa sta a gira troppo Questa sta a fare le capriole pazze Eccola Oh 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 no 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 è rimbalzata Non ci Raga sarà un Ho rotto il coso Vabbè però non è importante Rifai rifai prego 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 Vada vada Non ci ci schiacci Arrivando sotto i tuoi piedi Credo Dov'è? Non sta arrivando Ma come no ma l'ho lanciata Ma dove andare? Non è mai arrivata Mai arrivata bro Ok Ok la vedo No è dritta È dritta porco due No way No way Prossimo Signori sono passati circa dieci minuti da quando abbiamo iniziato a provare a fare la bottle flip Il problema è che le bottle flip sono un po' vagate mi sa Quindi non sappiamo se riusciremo a fare questo record mondiale Lollo tu continui a provare fai ancora un paio di tiri bro Ce la sto mettendo tutta Allora è caduta male Questa vera è dritta Questa vera è perfetta Sì ho questa vera è caduta perfetta Quindi signori purtroppo ci abbiamo provato Ma questo record è infatti Vedetevi per i commenti se ce la fate È il momento però dell'ultimo E signori siamo all'ultimo record Conti io e te ci sfideremo Lollo vai dalla fine e sarà il nostro giudice Vabbè ma signore F ma ti distruggo qua Mi raccomando vuoi subito un bel like Codice F dello shot Pronto? 3 2 1 Vai Chi vince ragazzi prende 1000 euro Ok 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 Ha vinto F Ha vinto F e ti prendi una nutellata in faccia E signori Io spero che il video vi sia piaciuto Se così lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Non ci vediamo al prossimo video Qua prossima è tutto Bella raga